Scusate, abbiate pazienza. Quindi non hanno risposto. Hanno fatto una confessione e l'altro ieri, no. E stamattina si sono abbalzi dalla facoltà di noi. Sì, quello che dovevano dire l'hanno già detto, quindi se adesso cortesemente mi fate andare in tribuna a fare l'udienza me ne sarei grata. Quanto detto in questura? Scusate, certamente. Ripeto, hanno fatto una confessione l'altro ieri. La situazione è assolutamente invariata, quindi cortesemente... Scusate, posso andare in udienza? Come li ha trovati. Ecco, grazie. Come stavano l'altro ieri, esattamente nello stesso modo. Cioè? Qui stanno male, ma ovviamente. L'abbiamo già detto, ripetuto. Quello per cui avevamo il mandato, diciamo, di comunicare, l'abbiamo già fatto. Ora, cortesemente, la situazione è questa. Hanno fatto riferimenti a Manuel? Mi fate andare in udienza cortesemente, la ringrazio. Sono in isolamento. Verranno trasferiti? No, spiegate però, cioè, abbiate rispetto. Io rispetto per voi, ma abbiate rispetto anche voi per me. Cortesemente, grazie.